le 12 e 50 del 13 dicembre 2022 mi trovo a via delle macchie da lui che conosco meglio con il nome colle delle macchie sta facendo il percorso inverso e già percorso inverso si ha un altro visuale basta modificare il percorso di lato di schiene di prospetto via di seguito la visione maggiore ad esempio questi terreni non li ho visualizzati altrettanto sotto quest'altra prospettiva questi altri terreni e lì in fondo vediamo il comune di luco dei marzi con questa bocca di neve praticamente si avvicinano le feste e quando si manca a natale il 25 adesso comincia la discesa ma non so dove andare veramente lo so ma mi faccio guidare dal mio istinto all'ultimo momento di cita adesso può cominciare discesa prima della piccola salita che aveva effettuato ecco qui procedo senza pedalare è bello non pedalare in discesa ma in salita si pedala e qui abbiamo il magnifico panorama di luco dei marzi via dei pazzi la parte estrema sud di luco il comunico dei marzi anche il montagno luco dei marzi grazie a tutti